Ci siamo voluti inserire in questa manifestazione, già partendo dal nostro nome, noi che siamo Culi-Avo Messina, già dal nome stesso vogliamo esprimere questa volontà proprio di amare Messina, l'abbiamo espresso più volte in questi due anni e mezzo di esperienza a Messina, quindi ci siamo sentiti proprio in dovere di dover partecipare. Lo facciamo in maniera semplice, in realtà vogliamo coinvolgere la cittadinanza a partecipare, come sempre la nostra indole, perché riteniamo comunque anche stesso l'amore non possa essere semplicemente riservato ai pochi, ma deve in qualche maniera abbracciare un po' tutti, quindi noi cerchiamo nel nostro evento di coinvolgere le persone, in questo caso posizioneremo all'argo San Giacomo un pannello dove la cittadinanza ai passanti, comunque passerà da lì, potrà lasciare un messaggio dicendo cosa mi fa innamorare di Messina, che possa essere il mare, che possa essere un'opera d'arte, tutto ciò che ti fa innamorare di Messina lo potrà inserire in questo pannello. Dopodiché questi messaggi saranno raccolti e verranno poi pubblicati sulle pagine che seguono l'iniziativa. Dopodiché abbiamo naturalmente aiutato, cambiamo Messina dal basso, l'associazione Zaleuro, a promuovere ulteriormente questo evento che appunto ci sentiamo particolarmente nostro, quindi anche tutto. Vi ringrazio per averci invitato.